Musica bassa per la principessa di oggi, anche lei campionessa regionale in carica su il suo Kansas. Oggi si presenta qui con Amir Pies, un talloncino arabo in addestramento, in prevalenza per il canicello per il secondo entrerà anche di Luca Eliano su Degia Pistorica. E poi la categoria open, poi apriamo categoria amatori e poi di nuovo categoria secondo l'opera categoria amatori. Intanto, ottimo l'uscita indenne nel becco, velocissima arrivata alla pedana con lo spostamento del oggetto, bene ormai una veterana oggi ha portato il cavallo giovane, la principessa di Osimo che per la quinta volta si è candidata a campionessa regionale Marche, monta da lavoro veloce. Vi ricordo che state assistendo allo special event di Gincana Wester, qui a Eldorado Ranch tra un panino e l'altro, qualcosa lascia nelle barriere a terra, va allungare nel barrel, il barrel è un triangolo tra barili, molto molto veloce, occhio lì. Già arrivata, già arrivata a la parte più difficile e tecnica di questo percorso, il side pass con lo spostamento del posteriore, riesce bene il posteriore e riesce bene, applausi per Roberto Altini, la principessa di Osimo, va a chiudere il tempo di 132,81, la conferma del 1, la penalità quindi sono 5 secondi da aggiungere, chiudono il tempo di 137,81 per Roberto Altini.